Anticipazione una vita, venerdì 27 marzo 2020. Ramon ha una forte discussione con Seglia e finisce per cacciarla fuori di casa. La donna si rifugia da Felipe. Lucia accusa il Palacios di aver aggredito la cugina. Lucia e Telmo annunciano il loro matrimonio agli Elvare sermoso. Felipe all'inizio disapprova la loro decisione. Poi però gli augura il meglio. Ramon dopo una conversazione molto tesa con l'avvocato va da Seglia per chiederle scusa. Aggiunge però di non riuscire ancora a fidarsi ciecamente di lei. Flora torna a lavorare alla deliziosa. Tito viene assunto come cameriere. Ma c'è un segreto che il cioccolatiere è costretto a confessare. Il meno Abbatan sta per sparare a Samuel ma all'ultimo momento sopraggiunge Carmen che salva la vita al suo signore. L'Aldai poi ha una spiacevole conversazione con Lucia per strada. All'interno della chiesa invece si ode uno sparo.